Liga 2 Campovolo 2011, la conferenza stampa. La prevendita è scattata da poco, meggia e febbre alta per Campovolo 2.0, l'evento dell'estate 2011 che tutti i fan di Liga 2 non possono assolutamente perdersi, remake dell'edizione 2005 che era riuscita a coinvolgere ben 180.000 spettatori. E proprio per questo motivo, perché tutto si svolga nel migliore dei modi possibili, i passi per Campovolo 2.0 sono stati limitati a 100.000 per evitare che ne risenta troppo l'audio. In conferenza stampa è il manager della Liga a confermarci che grazie al nuovo palco a specchio, questa volta nessuno rimarrà deluso dall'audio, ma se non bastasse la parola del manager ci pensa Luciano in persona a dire la sua in merito. Scrisse anche una lettera di scuse per questo, ma siamo pazzi, lo rifacciamo, ma con un palco solo e per solo 100.000 persone, perché ci sia audio per tutti. Però allora fu un evento e ci fu il DVD forse più venduto nella storia della musica italiana. In Liga ha poi motivato il perché di questo ritorno, ammettendo di avere una grande confidenza con questo luogo. L'idea era nata tempo addietro, vedendo gli U2 per la prima volta, ma ora Luciano Rock Nazionale vuole che sia tutta una grande festa per lui e per gli altri musicisti. L'evento comincerà con l'apertura del Liga Villa, un'area di intrattenimento fornita di diverse sezioni per il merchandising, il bar Mario, lo sport, le mostre fotografiche, un villaggio solidale e ovviamente anche stand adibiti alla ristorazione.